Bentornati su MyFootballJersey. Questa stupenda maglia che vedete è la prima della Corriere del Sud per la stagione, per l'anno in corso. In edizione Player, che vi ricordo, è quella più tecnica indossata, pensata per i calciatori. Grazie per la visione! La maglia è veramente bellissima! Avevo già preso maglie della Corriere in passato, questa è stupenda! Questa fantasia, questo colore scelto, veramente meraviglioso! Dico sempre per le stesse cose, ma questa è proprio proprio bella! Il costo lo vedete molto basso, qualità spero che si veda eccellente! Il tessuto Player della versione Player è veramente bello bello! Vi lascio nei dettagli tutti i riferimenti, mi raccomando lasciate un grande like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate! Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.